Marco Gaudeloni L'anno scorso abbiamo piegato sei mesi per trovare una terzina sinistra quest'anno siamo stati un po' più fortunati l'abbiamo preso con 20 giorni di ritardo però l'abbiamo preso sapete l'operazione che abbiamo fatto non ha pensato ai soldi ha pensato a investire su un ragazzo che è dell'89 anche se c'è molta esperienza di serie io sono un terzino offensivo però abile a un difendere però mi piace di più attaccare però come difensore giustamente ho pensato prima di vento grazie a tutti grazie a tutti